Buongiorno a tutti, sono Giuseppe Ballesio e rappresento la ditta Ballesio Fratelli SRL. La nostra azienda è nata nel 1924 e si è sempre occupata di tessuti. Da una decina di anni abbiamo prestato il nostro know-how alla realizzazione di Smart Textile. Quindi dal nostro core business, che sono la produzione e il design di tessuti per abbigliamento, abbiamo fatto una piccola branca che si occupa di Smart Textile. Gli Smart Textile sono dei tessili intelligenti, come dice la parola, che sono dei tessuti che possono essere utilizzati in diversi ambiti. Il nostro campo principale di applicazione dei tessuti è l'aerospazio. Produciamo diversi tessuti per moduli abitativi spaziali e per moduli autodeveloppanti, quindi che si aprono e si chiudono nello spazio. Abbiamo un mercato di riferimento che è quello degli Stati Uniti e quello dell'Estremo Oriente, che è il mercato di riferimento per la moda. Invece con i tessili Smart Textile abbiamo un mercato di riferimento che è quello dell'Italia e sono delle industrie aerospaziali. Negli ultimi due o tre anni ci siamo occupati, oltre che del campo aerospaziale, ci siamo applicati anche nel campo medicale e automotive. Tessili intelligenti, quindi tessili che hanno delle funzionalità, quindi tessili funzionali. Funzionali cosa vuol dire? Possono essere dei tessuti che conducono elettricità, oppure hanno dei sensori di pressione, umidità, temperatura, oppure sono tessuti che hanno delle funzionalità particolari, per esempio utilizzando gli SMA, gli Shape Memory Alloys, che sono dei tessuti, che sono dei materiali a memoria di forma, super elastici oppure a memoria di forma. Abbiamo partecipato a questo progetto per aumentare la nostra competenza nel settore medicale. Ci siamo occupati sia della progettazione del tessuto di supporto dell'elettrodo, sia della produzione del tessuto con il quale è stata fatta la fascia. Abbiamo utilizzato del velcro utilizzato già nel campo aerospaziale e oltre a questo abbiamo studiato dei nuovi tessili conduttivi con applicazioni in argento. I tessuti che abbiamo trovato e studiato in questo periodo sono stati sia dei tessili normali a cui è stata applicata una patina in argento, che si sono rilevati molto molto conduttivi e si sono rilevati anche molto interessanti per future applicazioni, sia filati a cui invece è stata applicata una patina di argento in maniera galvanica. Per applicare questo argento in maniera galvanica abbiamo utilizzato fili di diversi spessori e alcuni più conduttivi e altri meno. Sicuramente molti prodotti, molti dei sottoprodotti come li chiamiamo noi, cioè cose che abbiamo prodotto e che non sono state applicate realmente in questa fase del progetto saranno utilizzate in altri ambiti perché hanno delle caratteristiche molto interessanti. Per esempio abbiamo prodotto anche delle fasce con dei fili sensorizzati che potrebbero essere il futuro magari anche di questa stessa fascia, un futuro step di questa fascia che può essere realizzato nei prossimi anni. Noi abbiamo sempre fatto tessuti nuovi perché ci siamo messi a lavorare nel campo elettromedicale, perché abbiamo sempre fatto tessuti nuovi due volte all'anno, produciamo dei campionari e quindi abbiamo pensato tutti insieme in azienda di provare a portare questo nostro know-how nel campo tecnico. Siamo abituati ogni sei mesi ad avere 20, 30, 40 articoli nuovi da proporre per la moda, possiamo benissimo proporre qualche decina di articoli nuovi, tecnici, che possono essere applicati in campo tecnico. Come dicevo prima, molti prodotti, molti sottoprodotti, quindi articoli che abbiamo prodotto durante prove di queste fasce saranno utilizzati in altri generi, in altri lavori, sempre in campo medicale oppure anche stesso aerospaziale.